Allora, buonasera a tutti, siamo qui come associazione Mystery Hunters con una nuova puntata e un gradito ospite. Abbiamo il piacere veramente di ospitare qui in radio e parliamo appunto con Filippo, Filippo Sarpa, che abbiamo contattato perché abbiamo trovato interessanti le ultime sue pubblicazioni e le sue ricerche fatte sul campo e questo probabilmente è la cosa che ci ha colpito di più perché le sue pubblicazioni che qui vediamo, appunto chiamate Antichi Astronauti in Sud America, non solo hanno subito attirato la nostra attenzione di persone interessate a questi argomenti, ma anche il modo come sono state scritte e il fatto che, correggimi se sbaglio Filippo, e ti ringraziamo di essere presente. Buonasera a tutti, buonasera Ottavio e al team di Mystery Hunters, grazie mille per l'invito, un onore. Perché appunto, correggimi se sbaglio, si tratta di tesi di laurea praticamente, è una tesi, se non ho capito male. Sì, non avete capito male, è una tesi di laurea che è stata presentata al Dipartimento, pensate un po', di lingua e letteratura straniere all'Università degli Studi di Torino lo scorso luglio, quindi nel 2017. È partita come tesi in antropologia, la gente qua si chiederà giustamente come mai in un Dipartimento di lingua e letteratura straniere si possa fare una tesi di antropologia per giunta sugli antichi astronauti. Ecco, intanto il progetto è stato condotto insieme alla mia compagna di studi e collega anche in questo settore, che si chiama Sara Rolando, che saluto caldamente perché è stata la mia compagna di vita e in questi anni abbiamo fatto veramente di tutto e di più in questo settore. Abbiamo, diciamo, modificato il nostro piano carriera lingue integrando degli studi di antropologia ed era l'unico modo per poter trattare certi argomenti. Diciamo che con la scusa del fenomeno antichi astronauti come fenomeno culturale siamo riusciti a trattare delle tematiche che nella comunità accademica non sono poi così ben accette. Ecco, il progetto si basa su due tesi complementari. Abbiamo analizzato le due dimensioni, tra virgolette, diacroniche che abbiamo individuato sul fenomeno, ma proprio macro-diacroniche. La dimensione del presunto contatto nel passato, quindi in tempi antichi, in questo caso con le culture precolombiane del Sud America, e poi la dimensione presente con i presunti casi di contatto dagli anni 50 fino ad oggi. Ecco, le tesi, entrambe le tesi sono state scritte a quattro mani e poi in sede di discussione abbiamo chiaramente estratto a sorte. A me sono toccati gli antichi astronauti, a Sara è toccata, ecco, il lavoro si chiama Esopolitica Messaggi da altri mondi. Mi ero scordato di dire il titolo. Visto che di questo argomento qui se ne parla tanto, però spesso e volentieri se ne parla per riporto. Quindi materialmente la gente non va lì, anche perché sono luoghi appunto a noi molto lontani e anche difficili da raggiungere. Infatti nel libro, quasi a modo di avventura, si racconta anche il modo come si è arrivati a Machu Picchu, per esempio, o anche il solvolare le linee di Nazca, il deserto di Nazca. Quindi puoi raccontarci un po' come si è svolto il viaggio, le difficoltà che hai trovato e soprattutto i siti che ti hanno colpito di più, insomma. Sicuramente io personalmente sono molto affascinato da Machu Picchu, ma lì c'è l'imbarazzo della scelta, insomma. Ma guarda, io l'ho raccontato anche nella prefazione, è stato assurdo. Era il 2014 più o meno, io non sapevo assolutamente nulla di alieni, nulla di antichi astronauti. Infatti, perdonami se ti interrompo, la cosa che mi ha anche colpito è il fatto che tu fino a pochi anni fa eri praticamente crudo su questi argomenti, anzi forse anche mezzo scettico, magari probabilmente. Assolutamente sì, assolutamente. Sono partito come uno dei peggiori scettici, non me ne importava assolutamente niente. Però comunque covavo all'interno delle tensioni di tipo esistenziale che erano lì per uscire fuori. Una sera mio padre mi chiama e mi fa vedere un episodio di Enigmi Alieni, che per carità può essere criticabile sotto numerosi punti di vista, però ha il pregio di instillare dei dubbi, ha il pregio di mostrare i luoghi. E io appena ho visto il Perù, perché parlavano della fortezza di Saxo e Aman, io mi sono innamorato. Ne ho parlato con Sara, due settimane dopo stavamo organizzando il viaggio in Perù. Due settimane dopo, perché tanti tasselli, solo guardando quella roba lì, sono andati a posto. Io ne stavo cercando di ogni, insomma. Volevo trovare il senso della vita, volevo, come dire, non il senso della vita, come dire, almeno una direzione dove fare qualcosa che potesse... Indagare sulle nostre origini poi alla fine. Ma più d'altro ho capito, dopo ho capito che indagare sulle nostre origini era la mia strada, però fino a quel momento non avevo idea di come rendere, diciamo, la mia vita degna di essere vissuta. E una volta che ho visto queste costruzioni ho capito finalmente che lo stavo aspettando da, cos'era, 24 anni. Era 24 anni che la mia anima stava aspettando di vedere quelle cose lì. E qualche settimana dopo noi abbiamo organizzato questo viaggio e interamente con i nostri soldi abbiamo speso una caterva di soldi, nessuno ci ha finanziato assolutamente niente, tutti i buoni fruttiferi postali, i familiari, li abbiamo buttati là dentro. Per i futuri quattro anni abbiamo fatto le vacanze in Vallepo, però ne valza veramente la pena. All'inizio dovevamo fare soltanto il Perù, perché già di per sé, insomma, tra voli aerei e tutte le cose che ci sono da visitare, partiva veramente tanto. Abbiamo detto una volta che siamo lì passiamo un attimino da Tiahuanaco e Pumapunco in Bolivia e poi passiamo anche all'isola di Pasqua, giusto dietro l'angolo. Giusto dietro l'angolo, a 4.000 km dalle coste del Cile, ma va bene così. Abbiamo fatto un giro che è partito da Lima, quindi dalla parte centro-meridionale, e lungo tutta la costa meridionale, passando da Paracas, Ica, Nazca, siamo andati ad Arequipa, poi la parte dell'altipiano del Titicaca, la zona di Puno, poi Tiahuanaco e Pumapunku, per poi arrivare alla capitale dell'impero inca Cusco e alla fine andare sull'isola di Pasqua. Al riguardo vorrei chiederti una cosa. Hai trovato difficoltà o facilitazioni da parte del governo o dell'Accademia per i tuoi studi? Ma no, cioè nel senso no, da parte dei governi locali assolutamente no, vabbè ma non mi hanno trattato neanche male, insomma come un qualsiasi turista. Da parte dell'Accademia io devo soltanto essere grato alla relatrice che mi ha concesso di esplorare un tema del genere, perché chiunque altro penso si sarebbe messo le mani nei capelli, dovevate vedere le facce della commissione d'esame. Il mondo accademico su queste cose qui è... Ne so qualcosa perché abbiamo un corso di studi simile e quindi ne so qualcosa. Sì, il mondo accademico come ben sappiamo è molto chiuso su queste cose. Dipende dai soggetti, per esempio la prima e la seconda relatrice hanno espresso soltanto pareri positivi, chiaramente tecnicamente a livello antropologico ci sono delle cose, dei dettagli da rivedere assolutamente, ma hanno detto che il lavoro poteva essere inserito per la corposità e per come era trattato anche in una tesi di dottorato addirittura. Invece diciamo dal resto della commissione, non solo scetticismo ma proprio degli atteggiamenti certe volte a scientifici. Il professore di storia che addirittura non ha voluto sentire l'intervista a Edgar Mitchell Addirittura. Perché qualunque cosa potesse dire in quell'intervista non era da escludere che fosse pazzo, secondo lui, perché quelli che vanno sulla luna diventano pazzi. E questo è stato il professore di storia. Non faccio nomi chiaramente per rispetto, però è una roba, un atteggiamento completamente scientifico. Poi non sto lì a raccontare le bagianate a livello proprio storico che hanno partorito, diciamo, gli altri membri della commissione lì presenti. Comunque non ci aspettavamo di scardinare... Chissà che cosa! ...di paradigmi in un quarto d'ora di presentazione a testa. Anche lì è una tesi del genere, un quarto d'ora di presentazione a testa. Vabbè, però siamo già contenti veramente che siamo stati in grado di poter presentare questo lavoro in un contesto accademico. È stata una grande opportunità e penso che sia stata la prima volta in assoluto in Italia che qualcuno si sia esposto in un contesto accademico in maniera così, come dire, aperta. Ma anche netta. E poi soprattutto secondo me, anche da un punto di vista obiettivo, c'è nel senso che avendo fatto sentire entrambe le campane, perché nel lavoro intervisti sia persone possibiliste, diciamo così, e sia persone un po' più scettiche. Sì, no, e soprattutto presento quelle che sono le teorie ufficiali in merito. Esatto, cioè sotto questo punto di vista. Per confutarne alcuni aspetti, non tutte. Io non sono uno di quei disfattisti che dice tutta la storia è da buttare o da riscrivere. Ci sono degli aspetti però chiaramente troppo, troppo, troppo importanti che sono stati così trascurati o liquidati perché non si avevano delle risposte plausibili. E quando uno va veramente in Peru si rende conto che attribuire tutti quei lavori megalitici agli Inca, ma non solo agli Inca, cioè a un imperatore, all'amministrazione di un imperatore che è pacciacute, che è durato 30-40 anni, mi sembra veramente una sciocchezza. Non so se Marco ha qualche domanda, qualche sito in particolare ce ne sarebbero vari. Io sarei curioso di sapere, come un po' tutti, se hai trovato, soprattutto quando sei andato lì a controllare con mano, dei collegamenti soprattutto con le persone del luogo, anche dal punto di vista religioso. Se parlando con qualcuno hai riscontrato un forte collegamento proprio con le persone stesse. Tipo un retaggio magari, ancestrale. Uno degli aspetti più importanti di questo lavoro è stato proprio il contatto umano con le persone. Cioè noi siamo andati lì non solo a... Non siamo andati lì a fare gli archeologi innanzitutto, siamo andati lì a parlare con le persone perché l'abbiamo fatto in veste di antropologi. Quindi molto, della gran parte del lavoro, si è basato sul contatto umano, sull'intervista ai nativi soprattutto. Ricercatori locali, ricercatori stranieri, ma soprattutto ai nativi. In particolare a quelle figure della cultura locale che vengono definiti sciamani, che sono questi personaggi di riferimento all'interno della comunità che si dice possiedono delle capacità di connessione con il regno sovranaturale. Un sacco di queste persone ci ha confessato che molte di queste strutture non sono state fatte né dagli Inca né dai loro predecessori, ma da un altro genere di... O di umanità o addirittura c'era chi parlava di Fratelli dello Spazio. C'è un posto che mi è rimasto appunto impressa, dove tu hai avuto, non dico un'esperienza mistica, però dove vi siete fermati un po' a meditare per una buona persona. No, ma io nel libro sono stato diplomatico, mica potevo scrivere certe cose in una tesi di laurea, mamma mia. Ma lo puoi dire adesso praticamente. Certo, certo, non potevo scrivere mica certe cose. C'è una determinata porta, vabbè, puoi raccontare tranquillamente. Era la puerta di Ayumarca, nell'altopiano, al confine tra il Perù e la Bolivia, proprio sulle rive del Titicaca. C'è questa enorme porta scolpita nel granito rosa, ma la conoscono chiaramente in molti, con una porticina molto molto più piccola, scolpita diciamo nella zona centrale in basso. Ecco, ci ha portato lì uno degli sciamani che avevamo contattato, per gentile concessione dei nativi. Io e Sara ci siamo messi seduti di fronte a questa porta, seguendo le indicazioni della persona che ci aveva accompagnato, e lì abbiamo perso la concezione del tempo fissandola. Ora, non so se era perché eravamo stanchi, veramente, io avevo tre parassitosi in corpo, perché ho bevuto l'acqua dei torrenti dell'altopiano, con la pastiglietta di cloro. Però, devo dire che è stata un'esperienza particolare, era come se non ci fosse... Si fosse fermato il tempo. Esperienza simile allo Zed. Sì, è come il tipo lo Zed, come diceva Marco, giustamente lo Zed egizio, che praticamente, secondo le leggende, fermava il tempo. Era come se in realtà io fossi diventato l'oggetto di osservazione e l'osservatore stesso, come se fossimo fusi in una sola cosa. E in questo, diciamo, suona veramente tanto mistico. Però ho avuto quella sensazione lì, non era una cosa separata dalla porta. Chiaramente non ho visto quello che c'era al di là, come naravano le leggende. Una leggenda dice che ci fu qualcuno che scomparve nella porta. Sì, in teoria, tra le numerose leggende che vi orbitano, perché sono veramente, veramente tante, c'è questa qui, per cui il portale sarebbe stato uno dei tre utilizzati da Wiracocha, che è la divinità della creazione andina. non solo degli Inca, ma anche di altre culture pre-Inca, che fosse collegata con altri portali, di cui uno è la Isla del Sole, l'altro al Tempio del Coricancia Cusco. Questa è una delle varie, diciamo, chiavi di lettura. Però ce ne sono altre ancora più entusiasmanti, più impressionanti, che in questo momento non riesco a raccontare. Però ci sono. Tra l'altro, anche se l'ambito è leggermente diverso, c'è anche, in Italia, pare ci sia stato un altro portale, la porta alchemica che si trova a Roma. Leggenda vuole che persone siano entrate, siano scomparse. Chiaramente l'ambito è diverso, perché qua si parla di alchimia, invece ora stasera stiamo parlando di ufologia. Non ne sono a conoscenza. Ti invito a visitarla, perché è veramente molto interessante. Ci sono scritte, chiaramente, di sfondo alchemico, basate sulla tavola smeraldina. Piazza Vittorio a Roma, in pratica. Piazza Vittorio, ok, va bene, perfetto. Capita Roma, facci un giro. Sì, ispirate da... Assolutamente, se passo, sicuramente. Dalla tavola smeraldina di Ermete Trimegisto. Di Trimegisto, sì. Ovviamente cose da dire sono veramente tante, quindi veramente facciamo un escursus abbastanza veloce. Maciupiccio è uno dei posti dove vorrei andare un giorno e mai probabilmente andrò, ma... Ecco, andateci col trenino e non come ha fatto stopirla quattro giorni con la tenda in mezzo alle montagne, perché non è cosa, veramente. Ovviamente per chi non conosce Maciupiccio, magari una piccolissima breve presentazione, insomma. Sì, Maciupiccio è la montagna sacra dell'Inca, la città sacra dell'Inca, ed è stata costruita, diciamo, su una sommità rocciosa, più o meno adesso io non mi ricordo veramente, perché il cervello impappa con 39 di febbre, tra 2400 e 2700 metri. Ecco, c'ho in mente queste due altezze. Non dovrebbe superare i 2007, comunque. Ci si può arrivare, insomma, in due modi. I turisti normali ci arrivano con tre ore di trenino e mezzo alle Ande e c'è anche un altro percorso che è il Cammino Inca, quello utilizzato all'epoca, tra 1400 e 1500, dagli Inca. Ed è questo il cammino che abbiamo fatto noi. Maciupiccio è un enigma, perché presenta delle strutture, come un po' tutto il Peru megalitico andino, non ci sono, insomma, delle cose che non ho riscontrato un po' dappertutto in quella zona, che presenta degli aspetti che ancora oggi non sono stati indagati a sufficienza. Parlo, per esempio, di questi enormi blocchi megalitici di 150 tonnellate che sono stati trasportati su quella sommità. Per niente è facile, perché appunto dovreste, chi c'è stato vede, insomma, quali sono le difficoltà morfologiche del terreno, attraverso le quali trasportare questi blocchi. Poi nel Tempio del Sole ci sono delle superfici, le superfici dei blocchi sono chiaramente vetrificate, quindi significa che sono stati sottoposti al passaggio di un'energia termica molto, molto, molto elevata, che di sicuro non poteva essere quella di un focherello, di una fornace anche. Anche avessero creato delle fornaci dove inserire questi blocchi. E poi chiaramente sempre questi, questi disegni poligonali dove la roccia sembra modellata come burro e in 10-14 lati riescono a incastonare tutte le altre pietre in maniera precisamente adiacente. Senza fessure, ovviamente. Assolutamente no. E dove lasciano le fessure? Perché le volevano lasciare per questioni antisismiche. Quindi sapevano quello che facevano, avevano delle conoscenze architettoniche antisismiche da far spavento. Cioè per un popolo che sulla carta non aveva la ruota, che non aveva sistemi di scrittura, quindi se non siano sistemi di scrittura io non so da dove derivi la matematica per la... È veramente un'assurdità storica attribuirli a... Per questo, torniamo al discorso di prima, la chiusura senza senso del mondo accademia. A meno che noi non dobbiamo rivedere però le conoscenze degli Inca. Io questo fatto non mi convince ma non lo escludo nemmeno. Allora rivediamo cos'erano in grado di fare gli Inca. A parte questo... Però non mi convinta. No, no, no. Però una cosa che viene attribuita agli Inca e quindi viene attribuita da un punto di vista temporale ben preciso. Sì. Ma ci sono teorie a tal proposto oppure discorsi che hai fatto con sciamani locali o anche no. Che invece addirittura queste strutture siano molto più antecedenti agli Inca e che gli Inca magari ce l'abbiano trovate, diciamo così. Come probabilmente gli egiziani hanno trovato la piana di Giza, ecco. Ma guarda, magari dopo vi mando il video perché ho qui il video dell'intervista sottotitolata dello storico che ci ha accompagnato. Magari lo aggiungiamo come appendice all'intervista che poi caricheremo su YouTube. Come no, certo. Volentieri. E questa persona ci racconta che sono chiaramente strutture realizzate prima del diluvio, chiaramente, e che non hanno nulla a che vedere con gli Inca. Gli Inca, come magari gli egizi nella piana di Giza, hanno trovato delle strutture e le hanno rifunzionalizzate secondo le proprie esigenze. E, diciamo, se ne sono appropriati, hanno tramandato i posteri che erano stati loro, i veri creatori. in realtà sono strutture che sono lì da... Migliaia di anni. Da migliaia di anni prima, assolutamente. Ma è evidente anche perché una cosa che ho fatto notare per non saperne leggere né scrivere, cioè io non sono un architetto, io non sono un chimico, io non sono un ingegnere e non sono un archeologo. Ma ci sono delle questioni di pura logica che non sono state affrontate a dovere dalle persone che hanno le competenze per stabilire certe cose. Se a Machu Picchu, a Sacsayaman, troviamo degli strati di edificazione che sono, diciamo, su basi megalitiche, poligonali, realizzate con una precisione impressionante e sono sormontati da Pietrisco e il materiale collante come la malta, sono due costruttori completamente diversi. Completamente diversi. Sì, sì. Ma invece dicono, la giustificazione storiografica ufficiale è quella per cui differenti tipologie di strutture avevano differenti tipologie di stili di costruzione. Ecco, nella tesi io mi rifaccio a un archeologo che si chiama Agurto Calvo e individua un certo tipo di stili. C'è quello poligonale ciclopico che è in basso e poi quello rustico pirca. Quello rustico pirca e quello poligonale ciclopico sono due cose completamente diverse. Non hanno niente che ci azzecca l'uno con l'altro. Eppure troviamo sempre in ogni costruzione del Perù andino c'è sempre questo stacco di zone che sono state visibilmente restaurate visibilmente restaurate in tempi chiaramente postumi perché sono poste sopra e non sotto e delle basi megalitiche. Ora, come si faccia a dire che erano gli stessi costruttori io non lo so perché se è vero che un sito è sacro come lo può essere Machu Picchu soprattutto in certe zone di Machu Picchu e vediamo che è sormontato da zone realizzate che sembrano fatte veramente dai bambini delle elementari e allora c'è qualcosa che non va e soprattutto c'è gente che parla di restauri fatti diciamo in tempi odierni in verità no se uno va a vedere le foto di Bingham agli inizi del novecento quando aveva scoperto Machu Picchu le prime foto che ha scattato mettono ben in evidenza che c'erano queste basi megalitiche sormontate da questi restauri che c'erano già prima che lui arrivasse quindi assolutamente non è vero che sono restauri fatti in tempi odierni Filippo mi senti? Sì ti sento Ciao Filippo sono Aurelio ci siamo visti nel pre Ciao Aurelio ciao mi ricordo ma non è in video non sono in video va bene sono dietro le quinte dietro le quinte però siccome sono chiaramente molto curioso di tutta questa insomma questa discussione volevo farti alcune domande visto che mi appassiono ovviamente dall'argomento da anni in particolar modo vorrò capire secondo te qual è il contesto cronologico se così possiamo identificarlo che lega le strutture ciclopiche con incastri poligonali in tutto il mondo e mi riferisco in particolar modo ad esempio ai megalitiche che sono presenti in Giappone anche in Italia nel Lazio oppure nell'isola di Pasqua nella piattaforma quella famosa dove sono appoggiati poi la piramide di Yonogumi no quella di Yonogumi sì quello che Yonogumi ha un'altra cioè nel senso ha comunque delle forme un po' trappenzioidali come il palazzo imperiale a Tokyo esatto esatto ed è un mura molto simile esatto esatto mi riferivo proprio a quello quindi volevo capire secondo te quale può essere il fil rouge dal punto di vista cronologico che potrebbe spiegare sostanzialmente questa estrema e raffinata conoscenza di incastri soprattutto di lavorazione e di estrazione di questo materiale per costruire cose che apparentemente sembrano fuori dal tempo il problema è grosso perché non esistono modi come ben sai di datare io ho la mia teoria poi ovviamente non si può datare la roccia o perlomeno è estremamente difficile bisogna fare degli esami che poi non sono nemmeno così non arrivano nemmeno a delle risposte certe allora possiamo dire secondo me possiamo escludere che siano diciamo precedenti cioè che posteriori a questo grande cataclisma che dovrebbe essersi verificato circa 13 mila anni fa e che ormai diamo tutti assolutamente per scontato non c'è più dubbio a riguardo ci sono arrivate anche le conferme da parte della comunità scientifica in particolare dall'università di edimburgo con la stella della voltoio a gobekli tepe quindi di quello siamo assolutamente certi io non lo metto assolutamente in dubbio è quello un punto fermo poi da qui che siano 20 mila 25 mila 30 mila 100 mila io questo non lo so è difficile insomma scoprirlo è evidente che c'è una connessione tra tra le diverse strutture in tutto il mondo perché sono assolutamente identiche adesso ho ricevuto delle foto che vi farei vedere ma non ce l'ho qua devo scaricarle da messenger di un mio amico che è andato in Albania e ha trovato di nuovo le stesse cose cioè uguali 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 identiche alle strutture era la stessa civiltà o quantomeno la stessa matrice la stessa matrice o sì magari con delle differenze locali chiaramente però si vede che l'essenza è quella sembrano che siano andati a scuola tutti dalla la stessa scuola dallo stesso mastro ecco chiamiamolo così ma anche le porte c'è ad esempio in Albania ce n'è una in particolare molto famosa ha una disposizione degli incastri ovviamente megalitica ma soprattutto poligonale che guardando un po' i libri di storia di architettura in effetti è fuori dal tempo nel senso che tendenzialmente quelli che sono stati i grandi costruttori del passato intendiamo ovviamente il periodo greco ecco non utilizzavano quel tipo di incastro assolutamente tendevano direttamente a costruire dei blocchi diciamo rettangolari e posizionarli uno sull'altro ecco la cosa interessante è questa che ti volevo chiedere se la differenza di materiale e di posizionamento delle strutture intese come strutture posizionate vicino lungo le coste ad esempio e anche la precisione degli incasti intesa come lavorazione estremamente fine può far diciamo raggruppare alcuni ceppi quindi alcune culture sparse in tutto il mondo in una fascia temporale più o meno ampia cioè nel senso chiaramente come ha detto Poco Batù è sottolineato non sappiamo se stiamo parlando di 20.000 anni fa 30.000 eccetera perché non si può datare assolutamente la pietra però tramite alcuni indizi fra cui appunto il livello dei mari quindi l'altezza del mare è un determinato lasso di tempo e quindi il fatto che alcune strutture sorgono in determinati punti vicino alle coste oppure no si possa più o meno stimare diciamo una linea temporale capisci cosa intendo quindi magari c'è qualche cosa in merito io mi rifaccio a Posnansky che è il padre dell'archeologia dell'altipiano boliviano e lui era arrivato a delle conclusioni del tipo si tratta di 15.000 avanti Cristo basandosi insomma sulle posizioni delle strutture dall'interno del complesso di Tiahuanaco e sì ci può stare tranquillamente ci sono stati altri scienziati che dopo hanno confermato hanno avallato le sue posizioni quindi io direi che siamo su quella fascia lì compresa tra i 12.000 e i 20.000 poi chiaramente non si sa e non abbiamo assoluta certezza non potremmo a breve perlomeno con le tecnologie che abbiamo a disposizione cercare individuare una fascia cronologica ben precisa in Sud America c'è diverse foto fra l'altro di materiale estrattivo tolto da determinate cave la cosa che è interessante almeno alcuni dei curiosi che studiano l'argomento notano che in effetti questi punti di estrazione hanno non tanto delle scalfiture ma come delle colate delle bruciature come se fosse delle colate delle bruciature come se i blocchi fossero stati staccati quasi come se fosse lasciami il termine abbastanza semplice ma come se fosse plastilina quindi come se diciamo l'ho usato anche io nella tesi quindi voglio dire questo tipo di approccio come è visto nella comunità scientifica sicuramente non benissimo immagino ma che possibilità ci può essere secondo te la possibilità che ci sia stato qualcosa di diverso dalla linearità che l'accademia insomma ci offre sì allora noi abbiamo visitato in prima persona queste strutture in una zona nel parco archeologico di Saxoiaman che è veramente enorme cioè non c'è solo Saxoiaman la fortezza in mezzo a quel parco ma è una roba che si estende per chilometri e le persone che ci hanno accompagnato uno storico uno sciamano ci hanno fatto vedere questi diciamo delle zone che non sono assolutamente delle cave cioè ci sono anche le cave lì ma dove siamo passati noi per esempio ci sono semplicemente dei pezzi di roccia con delle strane asportazioni di materiale che sono di una precisione spaventosa assoluta cioè dalle foto escono fuori cose assurde superfici ad angoli perfettamente retti completamente levigati che sembra veramente la come dire che ci sia passata una una sega diamantata ecco e in alcuni punti ci sono addirittura quelli che abbiamo che sono stati denominati scub marks che sono letteralmente i marchi le impressioni a mo' di paletta ecco giusto per essere letterali ecco è questo che noi abbiamo presentato alla comunità accademica gli abbiamo detto present cioè concentratevi su questi fattori qui non parliamo magari di alieni atlantide e tutto quello che volete concentratevi su questi fenomeni qui com'è possibile a vetrificare certe superfici perché alcune presentano una patina di vetro ed è conclamato come fatto c'è anche un professore che si chiama Ivan qualcosa in questo momento non mi viene per colpa della sono tanti ma sono tanti sì sì Ivan Watkins dell'università del Minnesota che è un geologo che ha detto che quella roba lì assolutamente presenta i segni di che è vetrificato in pratica una vetrificazione assolutamente presenta i segni di vetrificazione e ci sono anche queste asportazioni precise precise addirittura alcune sembrano più che asportazioni proprio impressioni come se un oggetto si fosse poggiato sulla roccia preventivamente ammorbidita un oggetto di forma regolare e lo stampino fosse stato ripetuto un po' su tutta la superficie ora una roba del genere non può essere presa minimamente in considerazione se non può essere giustificata se non prendiamo in considerazione che qualcuno sia riuscito a manipolare la densità della materia rocciosa poi che sia stato fatto con con delle tecnologie con dei macchinari che poi sono andati perduti che sia stato fatto come mi hanno riferito i nativi su Saxo Mayan se hai sentito qualcuno qualche sciamano qualcuno della zona che ha qualche diciamo così leggenda teoria ma sì ma su Saxo Mayan è pieno è pieno veramente di personaggi tra cui c'è anche quello che va sempre a History Channel che si chiama Jorge Luis Delgado Mamani che parla sempre di questo sciamano ho letto qualcosa di Mamani ci sono queste impressioni regolari nella superficie di alcuni blocchi è quella perché la superficie il blocco è stato disaggregato in qualche modo a livello di di materia non si capisce come abbiano fatto ecco secondo me non lo so qualche macchina se fosse stata opera di macchinari si sarebbero dovute trovare delle tracce di questi macchinari mentre gli sciamani hanno parlato di facoltà umane cioè da parte di un'umanità che adesso considereremmo insomma extraterrestri per il divario a livello di comprensione e consapevolezza delle leggi naturali che erano in grado effettivamente di manipolare lo stato della materia questo è quanto ci è stato riferito chiaramente non è del tutto scientifico non possiamo provare assolutamente nulla però io quello che dico è che si tratta di punti di partenza cioè se noi non siamo in grado di spiegare con martello e scalpello e sabbia acqua certe cose allora dobbiamo necessariamente rivolgerci ad altre cosa altro purtroppo c'è una chiusura una chiusura preventiva oh mamma mia mamma mia io ho parlato soltanto cioè il mio tutto il mio intervento in serie di discussione era focalizzato su vetrificazione e scum marks e diciamo i tagli poligonali dei blocchi da 100 tonnellate e basta non ho parlato di alieni di cose completamente come dire assurde inconcepibili per la comunità scientifica accademica e ho parlato di fenomeni che sono lì sotto gli occhi di tutti e non capisco per quale ragione non siamo ancora lì a studiare queste cose tutti i santi giorni vai vai Marco no dico quindi ad oggi anche perché io vorrei sapere quali sono stati i libri oppure le personalità altre che ti hanno portato a proseguire questi studi nel senso cacciata la parte accademica scientifica se c'è stato qualcos'altro che ti ha fomentato questa curiosità e poi il tuo punto se sembra ad oggi dopo chiaramente i continui studi che stai facendo se per te è esistito o esiste qualcuno qualcosa oltre la convenzione insomma reale che è più o meno in contatto con noi ok sì ci sono stati dei testi chiaramente di partenza diciamo di entusiasmo iniziale e ti cito Colosimo ti cito Fondeniken che chiaramente a livello metodologico è nullo sono stati dei pionieri alla fine hanno lanciato hanno lanciato gli argomenti e basta hanno sfruttato diciamo anche la il contesto culturale dell'epoca sono riusciti a fare dei bei lavori veramente anche grazie a loro cioè nonostante la metodologia scientifica e tutto quello che volete però se non ci fossero stati loro non staremmo qui a parlarne seriamente cercando un approccio scientifico oggi e dopo di loro uno che secondo me lavora molto bene che non parla di alieni è Graham Hancock e lavora veramente bene lui ti presenta i fatti quelli che abbiamo cercato di riportare davanti alla commissione di laurea i lavori di Hancock sono straordinari assolutamente e nonostante lo taccino veramente di pseudoscienza ma da quante cosa devono dire Filippo perché se se tutto ciò passa per vero o quanto passa per vero se tutto ciò che sono prove va a scalfire le convinzioni che ci sono state finora il mondo accademico inizia a scretolarsi quindi anche la fiducia che si ha verso gli accademici da parte di tutti va a scemare e quindi alla fine è una questione secondo me di prestigio personale ottuso ovviamente assolutamente pensate che il professore di storia ci ha detto anche ma proprio in sede di discussioni di tesi toglietevi da quell'ambiente lì che ci ho bazzicato anch'io e non vi porta da nessuna parte esattamente era una roba veramente questa è la scienza dico io e diciamo sono i personaggi che dovrebbero cercare la verità sulle nostre origini alla fine molti di loro sono i degni eredi di chi ha mandato a rovo Giordano Bruno assolutamente parliamoci chiaro la teocrazia della comunità non della scienza perché veramente chi ci sia proprio indebitamente di questo termine è la teocrazia della comunità accademica e basta non saprei come chiamarla ed è un atteggiamento che ci ha confermato ad esempio anche un ricercatore che abbiamo incontrato lì in Peru che si chiama Brian Foster ed è un personaggio impegnato su molteplici fronti dal megalitismo a quei controversissimi crani allungati che si sono ritrovati tra la zona di Ica e Paracas sì pochi anni fa pochi anni fa da poco veramente da poco e sono stati condotti dei test del DNA e diciamo tra quelli non ufficiali si era riscontrato qualcosa di molto molto particolare poi chi l'ha fatto ha ritrattato però anche lì non sappiamo è successa la stessa cosa qui per quanto riguarda i siti megalitici di Nardo di Pace all'inizio avevano detto che erano formazioni artificiali e poi dopo insomma si è ritrattato tutto perché sempre dal mondo accademico ovviamente comunque sì scusa per riprendere perché ho divagato questa persona che ha studiato biologia ci ha raccontato che all'università chiunque metta in discussione ma neanche mette in discussione ponga delle semplici domande sul paradigma evoluzionistico che ci domina da un bel po' di tempo ormai viene silenziato non c'è modo di provare a fare un discorso costruttivo con i professori insomma c'è quella si sono accordati convenzionalmente su una certa su una certa versione dei fatti quella rimane bisogna accontentarsi anche quando le prove in un certo senso sono sono tante lui infatti è lui che propone di portare ingegneri chimici architetti in questi posti stabilire con delle perizie se effettivamente fosse possibile fare certi lavori con alla fine alla fine va fatto un lavoro interdisciplinare alla fine assolutamente assolutamente non ci si può basare su archeologi esatto archeologia e storia devono essere soltanto due aspetti di questo studio ma non gli unici due bisogna parlare con la gente bisogna parlare con la gente perché noi con una presunzione incredibile andiamo lì da occidentali e scriviamo la storia degli altri quando questi sanno qual è stata la loro storia chiaro certe cose saranno certi non so chiamiamoli miti saranno veramente rappresentazioni simboliche di qualcos'altro però ci sono delle altre cose che sono veramente letterali e non si può snobbare il nativo dicendo che il suo pensiero simbolico è primitivo e quindi non bisogna affidarci a proposito di prove salto di pali in frasca anche perché qui come hai detto prima è facile divagare ma tra le prove più grandi cioè più evidenti chiamiamole così sono il trono che ha Saxo Mayan ma mi pare che sia il trono nel parco di Saxo Mayan e poi i gradini anzi i gradoni di 50 cm di altezza queste sono cose abbastanza non spiegabili perché una popolazione non può fare una una popolazione umana diciamo così non può realizzare un complesso con dei gradini alti 50 cm per chi poi esatto quando un gradino normale penso che sia intorno ai 15 cm se vi riferite ai terrazzamenti di Ollantaità si si esattamente ok il trono invece il trono ovviamente invece è Saxo Mayan il trono ma è una cosa piccolina neanche poi così è grande però il grado di perfezione raggiunto in quella non lo so se una scultura una sportazione di materiale in un colpo solo ecco però è di una perfezione veramente sconcertante non aveva non aveva senso secondo me scolpirla e poi levigarla in quel modo lasciandola così in mezzo al nulla perché lì non c'è alcun alcun tempio non ci sono luoghi di culto osservatori astronomici non c'è assolutamente niente ci sono queste pietre buttate lì in mezzo non si capisce che cosa ci facciano non escludo che siano arrivate lì magari in seguito a un cataclisma che magari fossero a chilometri e chilometri di distanza e il cataclisma le abbia fatte esplodere e portate fino a quella a quella distanza lì e però la prova principale secondo me che bisogna indagare è quella della vetrificazione e soprattutto nella nella sezione di caglie a tumrumioc in mezzo alla città di Cusco ci sono dei blocchi palesemente dove la patina di vetrificazione è spessa così quindi bisogna partire da quello cioè ce l'avete davanti agli occhi dico io fate le due indagini io non posso perché non sono un chimico non sono un geologo però chi ha le competenze per favore spenda del tempo e vada lì quindi la tua idea riguardo a un'ipotica civiltà qual è un'idea che ti sei fatto tu personalmente l'idea che mi sono fatto è che sicuramente ci fosse una civiltà migliaia e migliaia di anni fa magari anche umana io non escludo che possa essere anzi nel corso della tesi io prendo in considerazione forse di più della civiltà aliena questa questa ipotesi non escludo però da quello che mi è stato raccontato dagli sciamani dai personaggi che ho intervistato un contatto con civiltà extraterrestri che ha trasmesso certe conoscenze a queste persone non vedo perché no perché quando mi parlano di Saksima mi hanno parlato di un portale dimensionale costruito dai fratelli del cosmo per diciamo attraversare agevolmente le distanze interstellari uno stargate una sorta di stargate mi è stato indicato anche diciamo il portale d'ingresso ma perché no perché no veramente sarò banale però se un uomo di duemila anni fa vedesse le tecnologie a nostra disposizione ora penseremmo che siamo davvero degli dei quindi non vedo perché non possa essere accaduto lo stesso qui ma d'altronde eravamo visti come degli dei anche erano visti anche gli spagnoli anche gli americani anche i soldati americani durante la seconda guerra mondiale nelle isole del pacifico insomma quando arriva quindi un ipotetico extraterrestre che fosse arrivato sulla terra 15.000 anni fa sarebbe stato visto assolutamente come una divinità e i racconti ci sono tutte le comunità soprattutto quelle delle ande diciamo abbastanza elevate tra i 5.000 e i 6.000 metri parlano di contatti che vanno avanti da millenni con questi cosiddetti apuniani mi dai lo spunto per un'altra domanda e sono ancora in contatto quindi secondo loro secondo le persone ricercatori ecco io ho avuto modo di parlare con poche persone relativamente agli apuniani ho parlato di altro ho parlato più della parte insomma megalitica però c'è questa c'è questo fenomeno pare che ci sia i ricercatori che invece sono attivi sul territorio in maniera costante da anni lo confermano e uno di questi correggimi se sbaglio è Gonzales che in pratica è un contattista abbastanza famoso negli ultimi periodi che è stato anche in Italia di recente in una conferenza lo abbiamo spieggiato sono già due anni che lo ospitiamo l'abbiamo ospitato a luglio 2017 o l'abbiamo ospitato adesso a luglio 2018 pensate che nel 2017 abbiamo dovuto fare due conferenze in un giorno solo perché c'era veramente tanta tanta gente ne abbiamo fatto una al mattino una alla sera quest'anno abbiamo fatto due eventi una di natura diciamo più esplicativa su quello che è il suo il suo lavoro e invece una parte più esperienziale il giorno dopo con delle sessioni di meditazione ecco è la sua è la sua teoria per chi non lo conosce una breve presentazione perché ovviamente sì certo lui è uno di quei personaggi definiti contattisti quindi in contatto che si dicono in contatto con civiltà non di questo mondo io ero assolutamente scettico all'inizio non mi importava nulla insomma di questa dimensione dell'ipotesi extraterrestre poi l'ho conosciuto in occasione di una conferenza negli Stati Uniti su invito di Paola Harris a cui abbiamo partecipato entrambi come relatori io e Sara presentando le nostre ricerche Gonzales presentando la sua la sua attività di contatto e io quando lui ha fatto la sua presentazione mi sono commosso cioè non non pensavo assolutamente che potesse farmi quell'effetto però le cose che diceva suffragate anche da ricerche di un certo tipo perché non è un di quei contattisti autoreferenziali e basta è una persona che ha unito la sua esperienza all'attività di ricerca ed è una cosa che in pochi fanno lui praticamente sta in giro nove mesi l'anno ed è sempre in giro a ricercare adesso dopo che è stato via dopo che è tornato dall'esperienza di Torino e pescare è andato in Mongolia poi a Creston negli Stati Uniti poi è andato sull'isola di Pasqua adesso penso che sia ancora sull'isola di Pasqua e non si ferma un attimo lui ricerca ricerca costantemente e cerca di unire quelle che sono le due dimensioni del contatto quelle che abbiamo indagato noi c'è la parte antica quella di migliaia e migliaia di anni fa quella che va anche all'origine dell'essere umano alla creazione dell'essere umano e poi il contatto attuale con i vari casi di contattismo finalizzati alla presa di coscienza sulla situazione attuale diciamo catastrofica per quanto riguarda la nostra razza ecco diciamo che tutti i contatti dagli anni 50 ad oggi avvengono più o meno in quella ci sono sempre dei moniti nei confronti dell'umanità quindi il tuo giudizio su di lui è molto positivo insomma ti ha colpito molto allora io l'ho portato a casa mia abbiamo mangiato ok mi hai già risposto di roba calabrese insieme ai miei genitori gli abbiamo presentato gli ex suoceri che come dire dal background iper cattolico e si sono messi a piangere quando lo ascoltavano le sensazioni che mi dà sono più che positive molto molto positive e non è magnetismo non è manipolazione la sua assolutamente no è veramente un ragazzo semplice umile che non ha creato alcun culto attorno alla sua figura che non guadagna un tubo perché io sono sono stato a un suo evento nei Pirenei non dico la cifra ma quello che prendeva mi sono fatto due calcoli ho detto ma ce la fa a rientrare nei costi oppure no ma anche quello che ha preso a Torino cioè più secondo me quello che ha speso di viaggi e alberghi che è quello che è riuscito a racimolare povero io penso che la sua sia veramente una vocazione e non è semplice perché stare in giro nove mesi l'anno ha delle occhiaie pazzesche non ce la fa più lo fa veramente perché per lui è una missione e quello che mi ha colpito sin da subito su di lui è stato il fatto che lui si espone si è esposto in passato andando a delle trasmissioni televisive in cile sono trasmissioni che sono reperibili anche su youtube qualcosa ho visto e lui ha detto guardate che il mese prossimo sul monte Shasta insieme a Paola Harris a Michael Salla ci sarà un contatto programmato cioè ci saranno degli avvistamenti di navi extraterrestri venite e filmate ma l'ha detto un mese prima davanti a tutti quindi tu rischi tantissimo a fare una a fare delle esternazioni del genere cioè ti metti in gioco all in cioè se non capita tu sei fregato cioè non ti darà mai più retta nessuno e queste cose ogni volta che lui parla si verificano io ho conosciuto anche le altre persone che sono andate che hanno partecipato all'evento nei Pirenei l'anno scorso che non era un evento di contatto programmato ma solo di meditazione e queste persone lo seguono in tutto il mondo spendendo migliaia e migliaia di euro per viaggiare perché con lui effettivamente quando c'è un contatto programmato gli avvistamenti ci sono e lui li carica su youtube ora io non sono un ufologo professionista però in base a quello che ho letto il background che ho potuto il bagaglio di conoscenze che ho acquisito fino adesso quegli avvistamenti mi sembrano più che genuini sono assolutamente delle navi poi per carità potrò essere smentito da da qualche accademico dal cicca piano di turno e dall'accademico però io penso che siano dei veri e propri avvistamenti e non giustificherebbe tutta questa gente che ogni volta va lì e si fa i chilometri per assistere ai suoi eventi e non è neanche semplice perché ti porta in certi punti sperduti delle montagne su cui non è mica facile arrivarci si caricano certi zaini da 20-30 chili e camminano le ore si parte Marco non so se ha qualche altra domanda perché poi dovevo fare una riflessione un abbinamento che ho trovato veramente ottimo nelle illustrazioni della tua tesi insomma dei tuoi libri domande in realtà ce ne sarebbero tantissime non basterebbe una sola trasmissione insomma poi col tempo comunque avremo modo di ripeterle a me interessa questo fatto del contattismo perché anche leggendo Mamani per esempio lui sostiene che ci siano queste entità magari anche etere dove solamente i prescelti possono accedere a un certo tipo di conoscenza che poi vengono tramandate per via chiaramente selettiva cioè non tutti sono adibiti al riguardo hai potuto sempre a livello antropologico constatare qualcosa del genere pure con le persone comunque parlato cioè alcuni tipi di tecnologie come già detto sono o state tramandate anche agli esseri umani da quello che hai potuto chiedere o comunque parlare oppure c'è proprio questo distacco netto con gli esseri umani chiaramente è passato è passato tanto tempo le dinamiche di iniziazione ci sono continuano esistono tuttora chi mi ha parlato ma anche chi ha potuto leggere mamani sa di questo sacerdote Aramomuru proveniente da mondi perduti che ha deciso insomma di trasmettere i segreti di tecnologie di conoscenze ai suoi adepti e questi riti di iniziazione di conoscenza sono stati poi tramandati fino ad oggi chiaramente è passato tanto tempo gli sciamani quegli autentici sono sempre di meno c'è sempre più un proliferare di imbroglioni come ho potuto constatare chiamiamoli così pressa pochissi sì ma ci sono i propri delinquenti perché quando certi riti di iniziazione o certe esperienze mistiche si fanno attraverso l'uso di sostanze psicotrope come possono essere la chacruna l'ayahuasca il peyote ecco se chiaramente ci si approccia a queste esperienze senza un minimo di cognizione di causa si rischia veramente di far dei danni e per loro questo attraverso questo vivere delle esperienze psichedeliche mistiche non è un'allucinazione da quello che mi hanno raccontato è semplicemente accedere a una percezione diversa aprire un barco aprire un barco dentro di sé chiaramente non un barco fisico all'esterno ma aprire un barco dentro di sé per avere la percezione di altro io stesso ho avuto modo di di partecipare a delle cerimonie non col peyote ma con l'ayahuasca e devo dire che sono degli strumenti che se utilizzati correttamente riescono a ad accelerare il processo di consapevolezza dell'essere umano ecco io devo dire che sì in questo momento ci sono ci sono persone che custodiscono dei segreti importanti per la storia dell'umanità secondo me si è perso molto perché chiaramente è passato tanto 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 tempo troppo tempo non siamo in grado di ricostruire però Filippo perdonami qualcuno è rimasto e credo che appunto sia una cosa che anche se è rimasta a pannaggio di poche persone non si non si sia mai persa ma venga tramandata ecco trasmessa io ti dico a Saxo Yaman chi ci ha portato ci ha detto che il proprio maestro quello che ha iniziato questa persona ha un certo tipo di conoscenza era stato in grado di attraversare il portale in due occasioni ma che in nessun modo poteva rivelare quello che aveva visto dall'altra parte per carità può essere anche diciamo se uno omnia mundi smundi insomma può essere anche portato a pensare che sia un espediente per no ma per come dire per dare la questione direte guarda non te lo posso raccontare ma era in realtà non ha visto niente esatto però secondo me non è desco ci sono delle questioni che non siamo secondo me ancora in grado di metabolizzare poi boh perché se avessimo la verità ultima così in tasca adesso succedere cioè faremo più danni che altri ti volevo dire invece l'altra cosa che ho visto all'interno che hai usato hai abbinato benissimo perché secondo me nel fumetto che ha realizzato Riccardo Rontini Elohim insomma riprendendo ringrazio tantissimo ringrazio lui Mauro e Prabhat di Uno Editori per avermi concesso l'autorizzazione ad utilizzare le loro illustrazioni di Elohim cioè in pratica lì dentro nel fumetto probabilmente c'è disegnato quello che è realmente avvenuto sì io sono completamente d'accordo con Rontini hanno praticamente Riccardo ovviamente con l'aiuto di Mauro viceversa hanno in pratica reso in figura in fumetto quello che probabilmente è realmente accaduto cioè in pratica qualcuno che ha liquefatto e ha modellato a modi plastilici la roccia e poi Rontini ha visitato quei posti esatto Riccardo non parla per sentire ma ha visitato quei posti come noi e giustamente elaborato saluto Riccardo se casomai dovesse vedere un saluto a Riccardo assolutamente e io sposo assolutamente la sua prospettiva cioè secondo me è andata come magari non attraverso gli Elohim ma con dei macchinari un po' forse contraddicendo quello che ho detto prima sulla possibilità degli antichi di manipolare la materia però è avvenuta una manipolazione della materia tale per cui la roccia è stata liquefatta e poi è stata modellata ma nel giro di pochi minuti perché ecco la teoria ufficiale è che si siano fatti dei modellini di argilla in scala in scala e poi si siano replicate le proporzioni per centinaia di tonnellate trasportate con lo scalpello trasportate per chiometri ovviamente e modellate chiaramente come se fosse burro perché giustamente la diorite è una roba che può tagliare col coltello e basta ecco praticamente il dogma è quello di trial and error praticamente loro posizionavano i blocchi da centinaia di tonnellate se il millimetro non andava bene provavano con un millimetro a scavare come se avessero la possibilità quella toglievano poi lo rimettevano quindi mi sembra veramente assurdo è allucinare ma è una presa in giro anche per l'intelletto umano sì è una presa in giro per l'intelletto umano sì sì assolutamente quello che ho scritto anche nella tesi mi inserisco sempre Aurelio è ritornato alla carica prego ritorno perché comunque mi appassiona tanto allora devo dirti per quanto riguarda il discorso della modellazione non è soltanto un problema legato all'estazione alla liquefazione dell'eventuale materiale roccioso ma un problema di composizione e ricomposizione e anche di calcolo di quanta materia diciamo disintegrare e riassemblare in determinate forme e dove quindi questo presuppone non solo un macchinario diciamo di una determinata potenza ancora ovviamente non diciamo non ben chiaro non però c'è anche un problema legato al calcolo cioè un eventuale macchinario deve avere dei parametri per agire quindi di conseguenza deve avere uno schema su cui agire quindi è tutto un discorso molto più ampio che poi va diciamo a corroborare eventuali tesi appunto di una società o una tecnologia con una tecnologia così elevata e così potente che per forza di cose credo e poi magari sbaglio ma per forza di cose deve aver avuto un contatto con qualcosa di preesistente o addirittura non autottono ecco per intenderci anche perché perdonami mi aggancio tu hai detto non si sa se magari era un'umanità precedente sì certo è una possibilità però tutto ciò che parla del passato rimanda sempre a un qualche cosa di esterno non di un qualche cosa di precedente sì è una possibilità quella precedente però nessuno parla di un qualche cosa di precedente parla di arrivi di qualcuno dal cielo ecco la mitologia permettetemi il virgolettato locale parla dell'arrivo del contatto per lo meno con questi appugnani comunque per rispondere ad Aurelio il discorso della composizione e lì già andiamo in speculazioni enormi perché diamo come dire per scontato appunto che il materiale sia stato liquefatto io questo non lo do al 1000% per scontato dico è una grossa possibilità diciamo che secondo me 70-80% di possibilità c'è dobbiamo assolutamente verificarlo con i mezzi a nostra disposizione si parlava anche all'interno delle tradizioni locali ma soprattutto delle cronache dei conquistadores di una sostanza in grado di ammorbidire la roccia come se fosse stato un acido una sostanza che era prodotta da una pianta e noi siamo andati a cercare le fonti dirette di questo che forse era non mi ricordo più comunque nel libro ci sono tutte le fonti bibliografiche chiaramente si parla di una sostanza in grado di sciogliere ad esempio gli speroni di metallo degli stivali dei conquistadores che è molto interessante poi in quale quantità abbiano raccolto e utilizzato quella roba lì per dare forma e modellare un blocco da 150 tonnellate anche lì chi lo sa non si sa tra l'altro se non ricordo male questa stessa tecnica parecchio sia stata usata anche per per scolpire tra virgolette i massi usati pure per le costruzioni delle prime dei gizi cioè si 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 parla sempre di questa di questa pianta il quale succo o olio insomma sostanza liquida dalla quale si crea possa modellare le pietre puoi continuare ecco e magari questi questi prodotti insomma hanno un'origine che non è terrestre può anche darsi anche perché altrimenti a quest'ora avremmo dovuto trovarne delle tracce e forse a livello bibliografico qualcosina c'è però Mamani per esempio parla di di uccelli che alla fine sonvelivoli che portavano nel loro becco questa sostanza qui c'è una marea di possibilità dei cargo praticamente le possibilità sono vastissime partiamo però da una certezza che quella che la storia come ce l'hanno raccontata non è quella assolutamente non corrisponde a verità e dobbiamo adoperarci su tutti i fronti possibili anche per magari anche per smentire una volta per tutte quella dell'ipotesi aliena anche se una volta mi affrontavo a certe questioni con un entusiasmo tale quasi da fanboy a critico soprattutto all'inizio poi quando ho cominciato ad approcciarmi alla materia con un po' più di serietà ho capito che molte delle delle mie convinzioni di partenza erano date da da un certo tipo di condizione esistenziale cioè io volevo assolutamente che fossimo discendenti degli extraterrestri che avessimo questo passato epico alle spalle però bisogna anche accettare che potrebbe non essere così chiaro le prove in questo senso per ora dicono che la versione sui sussidiari è da cambiare io sono rimasto sempre un fanboy guarda sicuramente l'ipotesi preumana ti ripeto più che altro perché tutte le fonti antiche parlano di divinità venito dal cielo è una possibilità partire da ciò non la reputo una certezza assoluta ma è una possibilità molto importante che assolutamente non deve essere scartata e che deve essere indagata io sono assolutamente convinto che il lavoro per esempio di Mauro Biglino abbia una validità straordinaria tra l'altro lo ringraziamo ancora a distanza di un anno perché è venuto ad assistere alla tesi ed è stato un onore ha fatto anche la prefazione avere la prefazione di Biglino è veramente un onore indescrivibile significa che abbiamo fatto un lavoro come si deve ecco diciamo un'ultima domanda perché altrimenti io andrei avanti veramente tutta la notte non mi sembra il caso hai trovato visto che sei stato anche sull'isola di Pasqua attinenze di costruzione di stile tra l'isola di Pasqua e il resto del Sud America oppure sono due cose secondo te un po' a parte no no ci sono dei siti che sono stati anche poi reinterrati perché avevano capito che era troppo simile erano troppo simili a quelli del Perù c'è una piattaforma in particolare una piattaforma per questi moai queste statue megalitiche si chiama Akuvinapu nel sud ovest dell'isola è una costruzione inc cioè tra virgolette che attribuiremmo agli inca di fattura inc è uguale è uguale una costruzione è una piattaforma composta da blocchi ciclopici e poligonali se vedete al suo interno questo l'ho riportato nella tesi c'è una una pietra d'incasso che va a riempire una zona di vuoto formata dagli altri blocchi adiacenti che è tale quale un'altra pietra inserita a Machu Picchu cioè praticamente la stessa identica soluzione architettonica per due costruzioni che sono lontanissime a livello geografico e poi c'è ci sono stati gli studi di Eierdal che ha confermato che i contatti potevano esserci stati benissimo poi a livello iconografico anche tra le divinità per esempio Machemache sull'isola di Pasqua e quei personaggi stranissimi rappresentati nelle piramidi di Tucume in Perù è la stessa identica con questi gli uomini uccello in pratica gli uomini uccello esattamente è qualcosa è simile è simile che si trattasse di alieni che si trattasse di civiltanti che qualcosa c'è e ce la devono cominciare a spiegare per bene chiaramente non possiamo aspettarci che siano direttamente gli archeologi dobbiamo e gli storici dobbiamo coinvolgere il maggior numero possibile di professionisti ecco quello che abbiamo tentato di fare noi è questo cioè da 70 anni le discussioni sono sempre le stesse dal 47 che parliamo sempre delle stesse identiche cose quello che è mancato in queste decadi è stato il confronto con le autorità accademiche e invece è lì che dobbiamo insistere perché se noi ce la contiamo e continuiamo a cantare e suonare tra di noi rimarremo quella cerchia ristretta di appassionati e come dire ci prenderanno e continueranno a prenderci in giro come come flottisti come visionari e non ne caveremo fuori un ragno dal buco guarda su questo io sono d'accordo fino a un certo punto nel senso che secondo me negli ultimi decenni una certa consapevolezza soprattutto presso i ragazzi magari le persone un po' più anziane un po' di meno anche se la cosa è un po' trasversale a livello generazionale secondo me una consapevolezza diversa una scintilla diversa nelle persone sui giovani è aumentata pure nel senso che la storia ufficiale visto che le scoperte archeologiche o anche gli studi diciamo così interdisciplinari come dicevamo prima anche a livello genetico per esempio gli studi di Buffa di Buffa sì certo ma non solo lui tanti altri cioè ha risvegliato la curiosità di molti e molti hanno iniziato a pensare in modo diverso a non sentire a non rendere accettabile quello che in pratica è stato detto finora sì è vero negli ultimi negli ultimissimi anni c'è stato questo tipo di apertura diciamo negli ultimi vent'anni sicuro almeno credo almeno una percezione un po' diversa ce l'ho quindi già il fatto che le piramidi siano diventate un po' più famose da questo punto di vista ha svegliato ha svegliato l'interesse di molti ma che magari poi alla fine approfondiscono poco o non approfondiscono per niente però il dubbio si è instillato in molte persone sui giovani però non sono non sono abbastanza convinto ecco nel senso che le persone sui giovani sono abbastanza pessimista sì no ma anch'io sui miei coetanei soprattutto cioè io sono convinto che sia la vostra generazione quella che è stata più ricettiva nei confronti di certe tematiche non di certo la nostra è come se se ci fosse stata un'involuzione io veramente a parlare non me ne vogliono veramente i miei amici anzi i miei amici quelli che frequento in maniera più stretta sono persone straordinarie ma da quello che vedo in giro soprattutto negli ambienti accademici dove dovrebbe essere stimolato il dibattito in realtà c'è tanta gente che del dibattito non frega nulla frega soltanto il pezzo di carta e fare carriera assolutamente fare carriera non ha primo interesse per per la scoperta per la meraviglia e questo non va assolutamente bene la vostra generazione è stata quella più ricettiva e quella che ha prodotto di più in questi termini in assoluto quello dei fanboy come me quello dei fanboy ok Filippo io ti ringrazio veramente di essere grazie a voi grazie in nostra compagnia magari spero di di vederti dal vivo e non attraverso uno schermo magari qua a Cosenza magari in uno dei nostri prossimi convegni chissà molto molto volentieri come nostro ospite anche magari farete il viaggio insieme da Torino tu e Mauro visto che noi quando sarò a Belvedere sono una mezz'oretta oppure quando sei quando sei qui a Belvedere visto che sei di origine ovviamente della provincia di Cosenza nato 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 a Belvedere quindi ancora meglio sotto il livello del mare quindi più terrone di me Belvedere di me non c'è nessuno ok quindi ci farà veramente piacere incontrarti di persona ecco io volevo cogliere l'occasione per consigliare a a tutti quanti la lettura del tuo libro che chiaramente ripeto per per dovere di cronaca Filippo Sarpa è scritto insieme a Sara Rolando andichi astronauti in Sud America traccia di contatti nel passato alla prefazione di Moro Biglino ed è edito da X Publishing quindi consigliamo a tutti questa splendida lettura che ci ha permesso di poter interagire con te grazie mille a voi del secondo volume perché non riuscivo a trovare sei sempre di casa ti saluto anche Aurelio grazie mille per l'invito è stato un onore grazie ci sentiamo presto ciao Filippo buona notte ciao ciao ciao